Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho ricostruito la mia farm di ragni velenosi che c'è nei sotterranei e la mia casa. L'ho costruita ovviamente in una maniera più efficiente e funzionante visto che già da diverse versioni non riuscivo più a farla funzionare correttamente. In questo episodio ragazzi andremo a costruire un minigioco qui nella mia vanilla. Dunque ragazzi mi piacerebbe che scriviate nei commenti chi si ricorda di questa zona che si trova proprio dalla parte opposta del nostro laghetto. Eccola qua. Risale all'episodio 11 e cioè quando ho lasciato Pig Island per arrivare in questa nuova zona dove poi ho stabilito la mia casa. Eh sì ragazzi questo era il primo rifugio che ho fatto. E oggi sfrutteremo questa parte diciamo poco decorata come vedete non c'è neanche dell'erba quindi abbastanza spoglia per costruire un nuovo minigioco. Molti di voi sapranno che qui nel mio mondo esiste già una zona di tiro con l'arco dove possiamo allenare la nostra mira fino a 50 blocchi di distanza cercando di colpire un minecart che si trova là al centro. Però sappiamo benissimo che oltre ad allenare la mira da fermi dobbiamo anche allenare la mira con oggetti in movimento ed è quello che andremo a fare oggi. Cioè una specie di tiro a segno dove dovremo colpire dei minecart però in movimento. Dunque ragazzi per costruire questo meccanismo ho bisogno di ben 38 hopper quindi sono qua nelle mie fornaci automatiche per cuocere un bel po' di ferro perché più o meno me ne serviranno tre stack. Ok ragazzi credo di aver preso tutto quanto adesso dirigiamoci qua nella zona dove inizieremo a lavorare. La prima cosa che devo fare è liberare un attimino questa parte dagli alberi che poi andremo a ripiantare perché faremo anche diciamo una zona decorata quindi non lasceremo ovviamente tutto quanto spoglio e dovremo anche probabilmente stringere un attimino questo laghetto. Quindi faccio questo lavoro ovviamente off camera e così vi risparmio questa cosa abbastanza noiosa. Andremo anche a togliere quella sabbia che sinceramente non mi piace. Faremo un laghetto che diventerà più o meno ovale quindi perderà diciamo questa forma che non è nemmeno tanto bella da vedere. Ed ecco qua tutta quanta la parte liberata dalle piante e dalle cose inutili. Ho anche ingrandito un po' la parte qui di terra e ho fatto lo spazio per fare una stradina per ritornare a casa. Qua ho messo questi quattro blocchi di legna che delimiteranno la costruzione che conterrà appunto questo tiro a segno. La cosa che devo fare adesso è ovviamente andare a scavare ancora qua e fare anche lo scavo per il meccanismo di redstone. Ricordiamo questo momento solenne quando vado a togliere questa eterna fornace e questa crafting table. E anche queste due torce ragazzi. Mamma mia quanto tempo. Che bello ragazzi quando si va a spaccare tutto quanto. Allora devo fare un buco profondo tre blocchi da qua deve essere lungo otto blocchi e in alto devo avere lo spazio di sei blocchi. Quindi uno spazio piuttosto grande per fare questo meccanismo. Poi però quando avremo finito andremo a sistemare tutta la parte qua di terra. Quindi faremo in modo che la nostra collina vada un pochino sopra questa costruzione. Un po' come se fosse integrata all'interno della montagna. Ok ho distrutto un pochino la collina ma sono riuscito a fare lo scavo necessario per questo meccanismo. E adesso vi spiego un attimino come funzionerà questo tiro a segno. Ci saranno due minecart. Uno viaggerà da sinistra verso destra e uno da destra verso sinistra su due rotaie differenti. Attraverso un meccanismo andremo a rendere casuale l'uscita di uno dei due minecart. Quindi noi quando saremo a distanza e dovremo cercare di colpirli non solo dovremo appunto centrarli ma dovremo anche prendere il minecart giusto perché non sappiamo se uscirà un minecart da questa parte e andrà da quest'altra oppure un minecart che sarà un pochino più sopra da destra verso sinistra. Quindi sarà molto molto interessante riuscire a centrarli. Per poter diciamo fare tutto questo abbiamo bisogno innanzitutto di un temporizzatore che vada a diciamo regolare l'uscita dei minecart da una o dall'altra parte. Allora adesso io vado a prendere della cobblestone. Ok la mettiamo qua e qua sopra andiamo a mettere una leva, sì magari con questi, ok, che servirà per accendere e spegnere il nostro meccanismo. Qua sotto invece andiamo a fare un loop, quindi una specie di circolo con gli hopper. Adesso vi faccio vedere in che maniera. Mettiamo il primo hopper dentro questo, poi qua andiamo a mettere uno per qua, uno per qua, poi uno dentro questo, poi un altro hopper lo mettiamo dentro questo e anche questo lo mettiamo contro questo hopper. Cosa succede? Qua dentro io vado a mettere un blocco per esempio di cobblestone. Il blocco compierà un giro completo ma quando arriverà nell'hopper sotto questo blocco si fermerà perché la leva dà un segnale di redstone. Ora vi faccio vedere. Ok. Quando io vado ad azionare la leva questo blocco inizierà a girare dentro questi hopper. Quando il blocco passerà da questo hopper andiamo a rilevare il suo passaggio attraverso questo comparatore che andiamo a collegare a un dropper rivolto verso l'alto con sopra un hopper così e ovviamente qua andiamo a collegarlo. Quello che abbiamo fatto fino adesso praticamente è un timer. vi faccio vedere che il blocco girando dà ogni tanto un segnale a questo comparatore e ovviamente dà un segnale anche a questo dropper qua. All'interno del dropper andiamo a mettere due oggetti e questa è una cosa che non tutti sanno. Innanzitutto dal dropper uscirà un oggetto casuale tra i due. Ma se noi andiamo a rilevare questo oggetto con un altro comparatore darà un segnale di redstone di intensità differente. Ora vi faccio vedere. Mettiamo qua un comparatore quindi questo qua così. Poi qua andiamo a fare un collegamento di questo tipo qua mettiamo due repeater e qua mettiamo della redstone. Poi all'interno di questo dropper mettiamo una spada di legno e un blocco di cobblestone. Ora vi faccio vedere. Se io aziono il mio timer guardate un po' che cosa succede. Ogni tanto si aziona questo repeater e ogni tanto si azioneranno tutte e due repeater. Vediamo un po'. Questo dipende, ecco qua, da appunto l'oggetto che arriverà in questo hopper. Questo ci servirà in pratica per far partire due distinti meccanismi che faranno partire un minecart o l'altro minecart. Avete notato però che quando si accende questo repeater si accende anche quest'altro e quindi ora dobbiamo escludere uno o l'altro a seconda di quello che si accende. Allora per fare questo dobbiamo mettere due blocchi in questa maniera qua. Togliamo questo così. Ok? Qua mettiamo la redstone che appunto andrà a azionare poi i due meccanismi e qua mettiamo questo sticky piston così. Dimenticavo di dirvi che questo repeater deve avere un tick di ritardo rispetto a quell'altro. In questa maniera funziona correttamente tutto quanto. Adesso andiamo a portare questo segnale di redstone in pratica al punto dove faremo uscire il minecart. Quindi 1, 2, 3, 4. Ok? E di qua andiamo a portarlo in questo punto qua. Andiamo a fare il collegamento. Così. Ok? Anzi questo deve andare un attimo più in là. Quindi dobbiamo spostarlo qua e qua mettere un blocco così. Ok? Qua sopra invece ci va una torcia di redstone che adesso vado a prendere. eccola qua. Così. Perfetto. E qua ragazzi andremo a mettere il dispenser che farà uscire il minecart che poi andrà ovviamente su una rotaia. Non così. Ragazzi non riesco a posizionarlo correttamente se non metto dei blocchi qua. Ok? Dispenser. Ok ce l'ho fatta. Meno male. Naturalmente dobbiamo fare anche il collegamento da quest'altra parte. Qui saliamo di un blocco. Aspettate che prendo questo. Ok? Mettiamo 2, 3, 4. Poi saliamo anche qua di un blocco. Andiamo a mettere la redstone qua. Quindi portiamo il segnale fino qua. Qui ci serve una torcia di redstone che la mettiamo qua. Ok? la posizioniamo qua sopra. Qua mettiamo un blocco. Così. E qua ancora più in alto. Quindi dovremmo togliere un po' di questa. Andiamo a mettere l'altro dispenser in questa maniera qua. Ovviamente sopra questo blocco ci serve della redstone. Ho messo praticamente le cose ad altezze diverse perché come vi dicevo all'inizio i minecart non viaggeranno alla stessa altezza in modo che noi potremo colpire uno o l'altro e non si copriranno. Ok? Ce l'ho fatta. Adesso andiamo a preparare il percorso dove correranno i minecart. Allora qua ho messo questo blocco per mettere qua sopra un hopper rivolto verso il basso perché qua dovremo andare a raccogliere tutti i minecart che in pratica vengono colpiti. E qua andiamo a mettere tutti questi hopper in questa maniera così. Quattro di qua e quattro dall'altra parte. Due, tre e quattro. Perfetto. Poi qua in realtà dovremo andare a fare un altro lavoro perché qua avremo la cassa dove finiranno tutti i minecart che non sono mai stati colpiti. E qua abbiamo il primo percorso dove andremo a mettere la rotaia. A questo punto vado a mettere questa cassa in questo punto qua che servirà per contare i punti perché tutti i minecart che riusciremo a colpire in questo percorso qua finiranno attraverso una serie di hopper che adesso vado a mettere proprio dentro questa cassa. Allora uno, due, tre e ne aggiungiamo altri scusate qua due che serviranno per raccogliere i minecart che cadranno invece nell'altro percorso. Allora qua dobbiamo andare a mettere un blocco o meglio un altro hopper sopra e un altro hopper ancora. Perfetto. E qua dobbiamo andare a fare uno, due, tre e quattro. Ok. E da questa parte la stessa cosa. Uno, due, tre e quattro. Ok. Ragazzi abbiamo fatto i due percorsi per i minecart. Qui ovviamente se il minecart non verrà colpito dovrà finire in un'altra cassa che andremo a mettere in pratica in questo punto qua che sarà quello di raccolta dei minecart che non sono stati colpiti. Quindi mettiamo un altro hopper in questa maniera qua. Allora sono andato a prendere un po' di cose perché ora dobbiamo completare questi due percorsi. Allora innanzitutto qua andiamo a mettere della sabbia con sopra un cactus che servirà per rompere il minecart che non è stato colpito su questo percorso. E qua dovremo mettere tre di queste rotaie alimentate che daranno la spinta al minecart e poi delle rotaie normali. Ora mi sono dimenticato di prenderle. Eccole qua. E andiamo appunto a completare questo primo percorso da questa parte qua. Quindi il minecart che non riusciremo a colpire si romperà, cadrà qua dentro e finirà quindi in questa cassa di raccolta. Più o meno la stessa cosa dovremmo farla anche sopra. Quindi andiamo a mettere le tre rotaie qua e poi delle rotaie normali. Così. Ok. Fino in fondo. Poi qua dobbiamo andare a mettere questo blocco qua. Adesso vediamo di mettere... va bene della terra va bene per il momento. Così. Mettiamo della sabbia e sopra mettiamo il nostro cactus. Qui questa cassa è un pochino inaccessibile. Magari miglioreremo la posizione facendo qualcosa qua. Comunque ragazzi a questo punto il nostro meccanismo dovrebbe funzionare. Dobbiamo un attimino decorarlo e ho pensato qua dietro di mettere una specie di cielo. Infatti ho preso questo light blue concrete e della lana bianca per rappresentare le nuvole. Ok. Come vedete ho fatto questo sfondo che assomiglia molto vagamente a un cielo. Adesso andiamo a prendere della terra con sopra dell'erba e della terra normale. Allora qua dovrei averne tanta e andiamo a prendere un altro blocco di terra con sopra l'erba. Uso questo qua con silk touch e andiamo a fare questa cosa cioè a riempire questa parte dove c'è la terra. Allora così. Perfetto. In questa maniera i minecart non cadranno di sotto. Ovviamente qua sopra ci sarà tutta quanta l'erba appena si sarà propagata e andremo anche a mettere dei fili d'erba che possono diciamo andare un pochino a coprire la visuale dei minecart che stanno passando e quindi rendere un pochino più difficile tutto quanto. Anche qui andiamo a riempire e facciamo il pavimento in questo punto. Poi qua davanti ragazzi dobbiamo chiudere con delle fence. Dovrei averle portate. Eccole. E un cancelletto che ci servirà poi per entrare nel nostro tiro a segno andare per esempio a recuperare se il cancelletto lo riesco a mettere nella parte giusta le frecce che abbiamo tirato. Perché il cancelletto me l'ha messo così? Adesso dove è andato a finire. Eccolo qua. Serve probabilmente un blocco così e il cancelletto è a posto. Poi qua possiamo andare ad alzare queste colonne fatte con questa legna. Quindi qua possiamo andare a fare così. E anche qua. Adesso non so esattamente quanto alto per poter fare il nostro tetto. Ok ragazzi ho completato un pochino qua le decorazioni. Naturalmente devo ancora finire il tetto. Qua c'è la parte dove possiamo andare a recuperare le frecce. E qua dietro ho messo i minecart. Ho aggiunto questo per permetterne altri 5. Quindi abbiamo 14 minecart qua. 9 nel dispensere e 5 qua. E 14 dall'altra parte. Quindi il punteggio massimo che possiamo ottenere se riusciamo a prendere tutti quanti i minecart è 28. Naturalmente possiamo anche andare a caricare molti meno minecart. Allora io non utilizzo l'arco con infiniti perché voglio appunto vedere se riesco a recuperare le frecce. Facciamo partire il gioco e vediamo un po'. Ok è uscito minecart di lì. Cerchiamo di colpirli ragazzi. Allora vi dico che dobbiamo cercare di prenderli ecco un pochino prima del loro passaggio davanti a noi perché altrimenti c'è una specie di glitch grafico che non ci mostra il minecart che è stato colpito. Ragazzi non sono molto bravo. Per il momento devo allenarmi un po' a questo gioco. Ok l'ho preso. Ok no l'ho mancato stavolta. No l'ho mancato ancora. Non credo che ho fatto un gran punteggio eh ragazzi. Non credo di aver fatto un gran punteggio. Allora sì dovrebbe essere finito. Quindi andiamo a spegnere e guardiamo quanti ne abbiamo presi. 4. Ragazzi 4 su 28. Non è facile non è facile. Qui possiamo andare a recuperare un po' di frecce. Non tutte perché appunto alcune si perdono. Però ne avevamo 32. insomma 10 le abbiamo perse. Ragazzi e qua andiamo a vedere quelli che non abbiamo praticamente colpito che quindi sono finiti in questa cesta che ci permette di ricaricare il nostro minigame. Ragazzi direi che funziona nonostante la difficoltà ma sono contento lo stesso perché lo scopo appunto di questo gioco è di riuscire a battere il record ogni volta. Ok il test direi che è riuscito. A questo punto off camera ragazzi vado un pochino a completare la costruzione e a sistemare anche la parte qua di collina perché appunto non mi piace vedere tutto quanto in questa maniera. Ci vediamo tra poco. Dopo circa un paio d'ore di lavoro finalmente ho finito la decorazione di tutta quanta la zona del minigioco. Qui c'è la stalla, qui finisce la strada che prima o poi sistemeremo e qua inizia un sentiero che si addentra nel bosco e arriva nella nostra nuova zona che ho decorato un po' come le altre zone intorno alla mia casa e quindi anche la zona diciamo dello stagno è migliorata sicuramente rispetto a quella che c'era prima. Poi vi faccio vedere bene tutto quanto. Qui c'è il comando che inizia a far partire i minecart. Si può prendere ovviamente un arco, qui ci sono le frecce e qui ho messo questo cartello che indica il record 4 che sono veramente poche rispetto ai 28 minecart. Poi ho messo questo più o meno segno per indicare dove andare a tirare le frecce. Ora facciamo un test se qui è abbastanza vicino oppure dobbiamo allontanarci o avvicinarci un po'. Poi qua ci sono le due stanze dove possiamo andare a caricare le nostre frecce 5 più 9 e qua andare a prendere i minecart che non sono stati colpiti. Qua ovviamente c'è la cassa per vedere i punti e qua c'è l'altra stanza con la stessa cosa che avete visto di là quindi possiamo andare a caricare il nostro minigioco. E ora non ci resta che provarlo. Allora le frecce ce le ho, l'arco lo prendiamo e ora ci prepariamo a iniziare. Pronti? Via! Allora fatemi prendere subito bene il ritmo. Non l'ho preso. Mamma mia ragazzi è difficilissimo. Questo forse l'ho preso. Questo no. No. Non lo so ragazzi. Non so se li sto prendendo i minecart ma ci sto provando. Forse sì eh. Come vedete bisogna, come dicevo, anticipare molto eh il punto dove arriva il minecart. Altrimenti non si riesce a prendere. Eh ok. Ragazzi forse l'ho preso questo. Dai dai qualche punto l'ho fatto secondo me. Questo l'ho mancato. Ragazzi è difficilissimo questo minigioco che ho creato. Sono un mostro. Allora. Aiuto. Ok questo l'ho preso bene. Ok. Ok forse qualche punto l'abbiamo fatto. Forse abbiamo stabilito un nuovo record ragazzi eh. Non lo so. Vediamo un po' se sono finiti i minecart. Allora guardiamo bene. Secondo me sono finiti perché non ne vedo uscire degli altri. Ok. Adesso. Ah ce n'era ancora uno. No. Un altro. Lo devo prendere. Ragazzi è qua. Purtroppo non c'è modo di capire quando sono finiti. Devo pensare se posso inventarmi qualcosa. Stavolta sono finiti per davvero. Allora finiamo qua di far andare il nostro meccanismo e andiamo a controllare quanti punti abbiamo fatto. Uh. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. dodici. Treci. Quattordici punti ragazzi. Nuovo record. Yeah. Uhuh. Fantastico. E qui possiamo andare ovviamente a prendere quelli che non abbiamo colpito e li andiamo appunto a mettere qua dentro. Ragazzi. Fantastico. E dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo episodio. Spero davvero vi sia piaciuto perché ho cercato di portare qualcosa di nuovo come sempre all'interno del mio let's play. Mi raccomando lasciate un like ed iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con tutti i nuovi video. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao a tutti!